In un mondo che ancora oggi nutre le nuove generazioni di stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni riguardanti sesso e sessualità, le nuove diagnosi di HIV sono sempre più frequenti. Per la società chi si ammala o diventa invisibile o viene marchiato ed emarginato e lo stigma è sempre più difficile da combattere. A Nocera Inferiore è la prima nazionale di un cortometraggio fatto da giovani per i giovani. Non è finita qui il titolo del lavoro che intende veicolare la prevenzione ed abbattere il muro dei pregiudizi. Non è finita qui intende raccontare che la pandemia di HIV non è ancora stata sconfitta. Eppure la vita di chi si ammala non finisce dopo averlo saputo. Grazie alle nuove cure sempre più persone riescono a condurre una vita comparabile a quella delle persone siero-negative. La storia è stata scritta grazie alla preziosa testimonianza di Remigio Romano, un attivista siero-positivo che ogni giorno si impegna ad informare i più giovani e non. Sabato 16 luglio la proiezione in prima assoluta di un lavoro che da settembre punta a divulgare il suo messaggio nelle scuole. L'evento nocerino alle 20.30 alla Sala Roma grazie alla disponibilità dei titolari della struttura e in virtù dello entusiastico sostegno di Giuseppe Barone, presidente dell'Associazione Nazionale Noa IDS. Barone ha ottenuto il patrocinio di Rufa. Ha padrocinato la proiezione anche la provincia di Salerno, i comuni di Nocera Inferiore e Pagani, agro-solidale. Questa bottiglia è per le grandi occasioni, vogliamo festeggiarla! Per l'occasione saranno a Nocera Inferiore la regista Benedetta Fontana e gli attori Emanuele, Maria Di Stefano, Giovanni Marra, Alessio Simonetti. Si tratta di giovani che stanno lavorando e studiando per costruire, nelle accademie specializzate, il loro percorso artistico improntato ad una nuova etica. Nelle immagini alcuni di loro durante la performance di fine anno del laboratorio capitanato da Massimiliano Bruno. La raccolta fondi che accompagnerà la proiezione sarà devoluta all'Associazione Noa IDS. Amo parlare di cose di cui nessuno parla e penso che il cinema sia un mezzo potentissimo per poter fare questo. Io e la Troppe e il Cast teniamo tantissimo questo progetto e siamo onorati ed emozionatissimi di poterlo presentare in anteprima a Nocera Inferiore. Quindi vi aspettiamo sabato 16 luglio alle ore 20.30 alla Sala Roma per una proiezione e un dibattito che seguirà con me e il Cast. Sarà una serata informativa, educativa per i più giovani e non. Diciamo che l'ignoranza è quella che noi siamo assaliti da questa ignoranza ma possiamo sconfiggerla informandosi. Una frase che c'era sul copione che adesso mi viene in mente, c'era scritto proprio l'HIV è come la Divina Commedia, tutti ne sentono parlare ma nessuno realmente sa di che cosa stiamo parlando. Io personalmente non mi sono mai talmente tanto informato da riuscire a capire di cosa realmente stiamo trattando. Poi purtroppo ho avuto anche persone care, vicine, che hanno avuto questa malattia curabile e allora lì quando inizi a capire che la situazione sta diventando un po' grave, come il clima, come la terra, come tutto il resto, allora ti inizi ad informare e capisci che è meglio starci un po' più attenti, ecco, con le giuste precauzioni. Grazie.